perché piace così tanto il paddle? perché quando entri ti trovi a tuo agio come dicevamo prima tu comunque in qualche modo la pallina la pigli e la butti di là e tante volte anche fra noi amici che giochiamo e magari siamo un attimo in difficoltà sul punteggio allora ci diciamo guarda buttiamola di là che poi il problema diventa il loro sembra una filosofia di vita ci sono dei momenti di difficoltà una roba devi fare, buttarla di là qualcosa succede e a volte non ritorna come si sentiva bellissima quindi mi pare di capire che volessimo ridurlo a proprio delle regole fondamentali sul perché piace così tanto uno, ci si diverte fin da subito due, ci si può giocare a prescindere dal proprio livello tecnico, a prescindere dalla propria età a prescindere addirittura da disabilità parlavamo in altri contesti sì questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo questo sì perché si parla tanto di inclusività no? però questa è reale se puoi la città per le loro la cosa che mi ha colpito è una cosa che mi ha colpito è un po'